Non si tratta di uno stato, ma di una patologia. Ipersensibilità elettromagnetica. Per ragioni ignote il mio sistema nervoso è diventato sensibile a certe frequenze delle radiazioni elettromagnetiche. Suo fratello l'ha chiamata allergia all'elettricità. Beh, è una semplificazione, ma essenzialmente corretto. Gli apparecchi elettronici creano dei campi elettromagnetici e se mi avvicino a questi dispositivi, i miei sintomi peggiorano. Sarebbero? Bruciore diffuso della pelle, un sudolore acuto e pungente alle ossa, dolori muscolari, palpitazioni improvvise, vista annebbiata, acufene, vertigini, nausea, mancanza d'aria, un senso... È doloroso? Sì, parecchio. No, non è soltanto lui, sono tutti gli altri. Rebecca? Sì, certo. No. Va bene. Jack, sei pazzo?